Amico, fuori. Sono in pieno trip. Mi sembra di aver già vissuto questo giorno. Déjà vu? Sì. Il giorno è ripartito quando sei morto, giusto? Sì. Forse posso aiutarti. Sono morta undici volte. Ero costretta a rivivere lo stesso giorno in continuazione. Uno con la maschera da neonato mi uccideva la notte del mio compleanno. Era la mia compagna di stanza, Lori. L'ho buttata giù da una finestra e l'ho uccisa spezzando il loop. Ora vivo una versione più bella della mia vita. Tutto ok? No. Ciao. Sei sveglia? Ti ho piegato i pantaloni. Non ci credo. Sei riuscito a fartela, oppure... Ma dai, è di nuovo lunedì 18, cazzo! No, riscaldamento globale! Lo stesso identico giorno! Pensavo di aver spezzato il loop, invece no. Oh mio Dio, è tutto diverso. Questa volta... ce l'ha con tutti noi. Se non resetti la giornata, sono tutti morti per sempre, vero? Dovrò morire in continuazione... per salvarvi tutti. Voglio dire che puoi resettare il giorno tu stessa. Oh, che idea geniale! Ok, facciamolo. Se non fermo il killer, molti moriranno. Il fallimento non è un'opzione. Sto letteralmente morendo dalla voglia di capirlo. Ciao. Sei sveglia? Mi sono rotta di quest'astro. Ho i giorni contati. Ma che... Allora, vediamo che cosa sai fare! Siamo in piena crisi, Tri. Chi entrerà nelle K, ora che siamo maledette? Siamo in piena crisi, Tri. Siamo in piena crisi, Tri. Tantano, Perciamolo. Grazie a tutti